ciao sono alessandro bosco di consulenza plotter e titoli benvenuto nella serie di video dedicati al marketing queste saranno delle pillole che ti regalerò con molto piacere che sono più teorici altri un po più pratici ho deciso di registrare questi video perché vedo che molti miei clienti non fanno marketing nel mercato in generale si fa poco marketing e mercato grafico chiaramente e quindi credo che oggi sia indispensabile iniziare una campagna di comunicazione ben fatta che sia importante cominciare a pensare come il web sia davvero strategico per portare avanti una attività di stampa e grafica e quindi spero che questi video ti siano veramente utili per cominciare questo percorso per essere avvisato tempestivamente sulla pubblicazione dei video ti consiglio di iscriverti al mio canale youtube e di attivare la campanella così come sicuramente saprai youtube ti manda un alert per ogni video che pubblico e quindi lo potrai vedere tempestivamente